Bisogna metterle su. Sì, dobbiamo far partire la macchina. Com'è il sangue di Vittorio? È il sangue blu. Fai la vota anche all'operatore, così dico, guarda, Mario Pepe è uno importante, ministro della sanità. Mi raccomando, teniamolo in forno perché ci aspettano 100 date in 100 teatri italiani. Eh, ma i 100 teatri devono essere poi capitalizzati. Stringi forte come sta adesso qui. Vieni a stringere qua tu. Che lo ha portato da fastidio? Quindi lo dobbiamo dopare per fare queste 100 tappe, no? Leggi, leggili il testo. Sì.